ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerò i foglietti illustrativi degli alimenti veterinari più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'alimento veterinario ad aptil express ceva salute animale spa ultimo aggiornamento 30 marzo 2021 informazioni commerciali confezioni formulazione indicazioni posologia informazioni commerciali titolare ceva salute animale spa concessionario ceva salute animale spa confezioni ad aptil express 10 compresse per cani formulazione 1 compressa contiene l triptofano 100 mg l teanina 100 mg gaba 100 mg vitamina b1 1 mg vitamina b6 9 mg vitamina b12 0 e 0 1 mg vitamina b3 2,5 mg inositolo 20 mg componenti analitici proteina grezza 48 per cento fibra grezza 6,8 per cento ceneri grezze se 2,2 per cento materiale secco 6,8 per cento oli e grassi grezzi 5,8 per cento indicazioni ad aptil è una linea di prodotti che tranquillizza i cani in caso di nuove esperienze e situazioni di paura spesso causa di stress nei cani è un mangime complementare per cani è costituito da una esclusiva miscela di amminoacidi gaba e vitamine del gruppo b che offrono un rapido sollievo al disagio occasionale del cane in diverse situazioni posologia somministrare le compresse due ore prima dell'inizio dell'evento critico quando prevedibile la somministrazione può essere ripetuta dopo sei ore se necessario le compresse possono essere facilmente somministrate con o senza cibo peso animale fino a 10 kg dose giornaliera 51 barra 62 2 compressa peso animale da 10 a 20 kg dose giornaliera 1 compressa peso animale da 20 a 30 kg dose giornaliera 2 compresse peso animale oltre i 30 kg dose giornaliera 3 compresse fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato